come vi comportate quando siete in viaggio o in vacanza con famiglia parenti e amici come riuscite a ritagliarvi il tempo necessario a fotografare senza che qualcuno protesti per le vostre continue fermate ma non hai ancora finito che barba ancora foto ma quanto ci metti non vedi quanto fa in fretta gastone che voi abbiate una fuji gfx e gastone un telefonino del 2004 non fa nessuna differenza per chi è stufo di aspettarvi e peraltro non capisce la differenza tra le immagini create da voi e le foto della minchia di gastone quindi è indispensabile elaborare raffinate strategie per evitare continui rimbrotti e snervanti frecciatine ecco qualche consiglio quando vedete un soggetto interessante esclamate toh guarda una gelateria e ovviamente la gelateria non c'è ma la vostra esclamazione sarà sufficiente a creare un attimo di incertezza tutti si guarderanno in giro alla ricerca della gelateria i bambini se ci sono incominceranno a chiedere il gelato le madri risponderanno che non c'è nessuna gelateria ottenendo una salva di capricci pianti urla e sbattimento di piedi che vi concederà quei 20 o 30 secondi necessari a scattare la fotografia oppure fingete un improvviso giramento di testa che vi costringa ad appoggiarvi per qualche secondo alla spalletta del ponte sul cannareggio e naturalmente poiché avete in mano la fotocamera appoggiate anche lei e scattate la foto o ancora simulate un calo glicemico lo so che avete appena fatto colazione in hotel con uova bacon pancake con sciroppo d'acero e succo di baobab ma la maggior parte delle persone non sa cosa sia un calo glicemico perciò andate tranquilli e chiedete a quell'antipatico di gastone il favore di andarvi ad acquistare una ciambella al bar più vicino e gastone che non vuole apparire insensibile non obietterà che il bar più vicino si trova a tre miglia più indietro nell'ultimo villaggio che avete incontrato prima di inoltrarvi nella monument valley e ci metterà più o meno un quarto d'ora tra andare e tornare se guida veloce e lasciandovi persino il tempo di fotografare una per una le bancarelle dei nativi che vendono souvenir non crediate che i professionisti vivano felici e scevri da simili persecuzioni quando viaggio con la famiglia tutti sanno benissimo che oltre a divertirmi sto anche lavorando ma ciò non toglie che dopo i primi 30 o 40 scatti qualcuno e da prima timidamente poi con sempre maggiore insistenza mi faccia notare che insomma potrei anche darci un taglio e tanto che te ne fai di tutte quelle foto vi lascio immaginare che cosa accadeva quando lavoravo in grande formato con apparecchia corpi mobili claudia la mia fidanzata e poi moglie non si scomponeva più di tanto lei ama fotografare ed è anche piuttosto brava e quelle strane macchine tutto sommato la incuriosivano quando non le chiedevo di farmi da modella mi lasciava armeggiare tranquillo con le mie carabattole approfittando della pausa per prendere il sole ma con gli amici che non erano sentimentalmente coinvolti le cose andavano diversamente un giorno passando da courmayeur dopo un'escursione in montagna vidi uno spettacolare effetto di luce sulle guinoire fermai la macchina pregando gli amici che erano con me di attendere qualche minuto aprì il bagagliaio e ne estrassi cavalletto e banco ottico sinar montai il tutto e chi ha mai visto una sinar sa di cosa parlo e mi incamminai verso un ponte da cui pensavo di avere l'inquadratura migliore lasciai sul ponte il tutto e tornai indietro per recuperare obiettivo panno nero e chassi con le lastre tre o quattro minuti in totale poi mi accinsi a effettuare la solita procedura ben nota a chi abbia mai lavorato con un banco ottico ma troppo lunga da descrivere e tutto sommato poco interessante per chi sia abituato all'autofocus e ai sistemi a matrice in realtà la procedura fu seguita solo in parte perché dopo aver osservato con attenzione la scena attraverso il vetro smerigliato smontai l'attrezzatura e tornai a riporla nel bagagliaio il tutto aveva comunque richiesto una decina di minuti beh non hai fatto la fotografia mi chiesero gli amici rimasti ad aspettarmi nell'auto parcheggiata al sole no risposi non mi piaceva l'inquadratura e non so se abbiate mai guidato da Courmayeur a Morgé e sappiate quanto tempo ci vuole ma per tutto quel tragitto gli amici mi elencarono una serie di complimenti che se ve li riferissi mi frutterebbero al minimo una querella per turpiloquio e oltraggio al pudore propongo un contratto da stipularsi tra chi fotografa e i propri familiari e amici un contratto dove si stabiliscano nero su bianco il numero massimo di scatti consentiti e il numero di minuti concessi alle fermate fotografiche una volta firmato da entrambe le controparti il contratto salvaguarderà tanto il fotografo che avrà il diritto di fotografare senza essere disturbato quanto i suoi accompagnatori che non saranno costretti a fermate che eccedano quanto stabilito di comune accordo che dite il contratto vi sembra troppo vincolante allora andate a risentire i consigli che vi ho dato poco fa le vertigini e le crisi ipoglicemiche esulano dai limiti contrattuali alla prossima